Scommetto che direi che sono io bello, biondo e intelligente! Devo confessarti una cosa, Nami! Anche tu sei il mio tipo! È l'occasione buona, un vero colpo di fortuna! Cosa? Come dici? Nami, tesoro! Voglio vedere la cucina, sarò curioso! Vergogna! Ho capito bene che cosa avete in mente, sporcaccioni! Va bene, d'accordo, ora vi do dei soldini così vi comprate qualcosa da mangiare. Chiunque osi avvicinarsi alle tue ragazze dovrà fare i conti con me, sarà stato chiaro! Ecco fatto, state tranquille, adesso potete andare a spasso in pace e non vi daranno più fastidio. Ciao, sono Lorenzo Scatturin, sto doppiando il mio cuoco preferito, Sanji. No, non ci credo! Non è giusto! Mi sto divertendo come sempre un sacco. Questa disegna non mi assomiglia! Vi mando un abbraccione a tutti quanti e un arrivederci al più presto. Ciao! Che cosa c'è? Sono troppo Ambition!